Musica Bello ragazzi ed eccoci qui con la puntata numero 5 di Pokémon ragazzi Allora, siamo a Fuxiaropoli dopo aver fatto tutto il giro dall'isola Cannella Siamo tornati a Fuxia I nostri Pokémon abbiamo il nostro Pikachu a livello 25 Ragazzi l'ho allenato un po' visto che comunque erano un po' bassotti Digret al 25, Warthor al 25, Monkey al 25, Charmeleon al 25 Allora ragazzi, prima di andare a farci la palestra Io volevo farmi un bel girettino a Fuxiaropoli Vediamo magari ci danno qualcosina di molto 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 importante La palestra è qui, la palestra sarà di tipo Psico Quindi il nostro bel Charmeleon avrà parecchio da fare Però ragazzi, prima voglio farmi un bel girettino Allora, io sono in guardia nella zona Safari La tua prima bigetta mi fa molto piacere Come segno ti regalo MN sub 8 Perfetto, non ci interessa tanto perché comunque Non ci interessa Però, però, però Meglio di niente ragazzi Io direi di andare a fare innanzitutto Un bel giretto Nella zona Safari Anche perché Nella zona Safari possiamo prendere tanti 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 bei Pokémon E soprattutto se comunque è come gli altri Possiamo prendere pure Surf Che Surf a me interessa A voi non lo so A me però interessa Allora, qua c'è un bel Pikachu Cicorita Uh, Lapras È bello viaggiare sulla nave Ok Sfera Poké Abbiamo trovato una Rating Ball Niente ragazzi Mi direi di andare a fare un bel girettino Qua nella zona Safari Perfetto Vediamo il benvenuto Il Porta Pokémelle Dove lo prendiamo il Porta Pokémelle A me l'hanno regalato ad Aranciopoli Quindi dobbiamo andare ad Aranciopoli In teoria Eh, eh, eh E vabbè, allora facciamo così, va Allora, andiamoci a prendere La palestra Di Aranciopoli Ah no, Aranciopoli Non indietro Però ci serve Volo Perché Volo è difficile Quindi Vediamo un attimo Cosa troviamo qua di importante Troviamo un Magnemite Ma a me Di più ragazzi Mi interessa Un Eh Un Pokémon d'erba Perché Ci servono le Pokémon d'erba Però non abbiamo neanche La bicicletta Quindi Quindi come facciamo Senza bicicletta Cioè il problema è quello Non abbiamo la bicicletta Eh L'unica cosa che possiamo fare È Fare la palestra E andare avanti Quindi Sta bambina Qua così a random Vediamo A vero ci dà qualcosa Ok Qua non si può andare E questa come cavolo Dobbiamo fare tutto il giro Sì Ok Vediamo la bambina Se ci dà qualcosa di utile Dalle parti Azzoropoli Ok Niente Dobbiamo andare a battere Questa qua Vediamo Ok E il campione come va Il capopalestra qui Usa tipo veleno Perfetto Ok Abbiamo o tipo di Pokémon Di tipo forza O fuoco Quindi Siamo un po' ravvantaggiati Perché abbiamo sia forza Che fuoco Quindi Vamo scola prima Eccans al 24 C'è almeno il 25 Andiamo giù di Bracere Baglione Che pareva Ci ha paralizzato Ragazzi Ho fatto un bel po' Di Antiparalisi Ditemi che non abbiamo L'antiparalisi Non abbiamo L'antiparalisi No Antiloto Non abbiamo L'antiparalisi No Ma perché Ma perché Siamo così sfortunati Dobbiamo andare a prendere Ragazzi Niente Facciamo questo qua E poi andiamolo a prendere E Sfiga Dobbiamo andarlo a prendere Perfetto Il primo è andato Venonat come secondo Io userei Monkey Tanto comunque Forza E Ma Forza E Ma perché Non li facciamo nulla Cioè hanno detto Forza e cosa Che li facciamo male Non li facciamo nulla Allora Piano in giro Ma scusa Vabbè Usiamo Charminion Charminion È l'unico Che li toglie tanto E che prende Confusa e paralizzata Addirittura Mamma mia Mamma mia Si mette male Dai Charminion Grande Charminion Quanti ne mancano Ariados Ok L'ultimo Quindi in teoria Battendo a lui Poi possiamo andare No Tranquillamente A Dai A prendere Se vabbè Trenta volte Attacca Vai Warthor Basta Facciamo i seri Allora Ah ma Surf ce l'abbiamo Già noi Vabbè Però un girettino Tranquillo Me lo farei lo stesso Magari Riusciamo a Trovere Qualche bel Pokémon d'erba Che comunque Mi interesserebbe Quindi Più di così Va bene Ok Il primo L'abbiamo battuto Diciamo Easy Qua Adesso Per tornare indietro Come si fa Così No Andiamo Andiamo Devo Trovare indietro Di qua Ok Perfetto No Vabbè Allora Chi che c'ha Gulpik Non so chi sia Però in teoria Dobbiamo farli male Manitudo Ottimo Super efficace Quindi Diglett Va bene No Ma anche Diglett Ci potrebbe fare Fa mucho 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 Bien Diglett Ottimo Così Torniamo Ancora Indietro Ok Allora Dobbiamo andare Un attimo A prendere Le Al Centro Pokémon Poi andiamo A prendere Un paio Di Antiparalisi E poi Ce lo andiamo A fare Easy Credevo Di avere Antiparalisi Della verità Ragazzi Invece No Purtroppo Non le abbiamo Allora Ah Quella Cosa è qua Quindi Si entra Da qua Si fa Così Ok Allora Quanti soldi Abbiamo 20.000 Ottimo Antiparalisi Ne prendiamo Una Una Trentina Sì La voglia Che bastano Ok Ragazzi Andiamo Avanti Rubiamo La cosa La palestra Prendiamo La medaglietta E poi ragazzi Ce ne andiamo Ad Aranciopoli E prendiamo Tutto Prendiamo La medaglia Così Ok Tutti Me ne voglio fare Prendiamo La medaglia La bicicletta E poi torniamo Pure alla zona Safari Allora Bracere Ottimo Acido Un altro Bracere Ottimo Cermilion È un po' Debolino Sto Cermilion Eh Di la verità Cioè Solo Bracere A livello 25 Solo Bracere Impara Non è Bella Come cosa Vabbè Finché Fuoco Però Ci sta Facendo Malissimo Ecco Bracere Allora Pokémon Cambiamo Diglett Che Diglett Anche tu Li fai male Semminimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimizzato Fossa Daglie tutta Grandissimo Diglett Diglett Mi sa che è meglio Diglett Di Cermilion Quindi Io cosa faccio Metto Una bella Super pozione A Cermilion Poi Metto Diglett Davanti Per forza E va davanti Allora Si fa così Ok Mi ricordo che dovevamo fare anche qualcos'altro Avevamo tipo schiacciare i pulsanti Che cambiavano le freccette Una roba del genere Allora, quello non è effetto Questo neanche Quindi qua ci vuole veramente Charminion Con bracere Insomma, non toglie neanche più di tanto Speriamo che impara molto presto Qualche mossa più forte di fuoco Perché sto bracere Ragazzi, non lo so Vabbè, livello 26 Ottimo, vediamo quasi come penso io Sì, perfetto Quindi bisogna Modificare questi cosi qua La freccia Sopra, ok Quindi facciamo così Ottimo Questo Qua, no Non è così, com'è? Così Questo giù di qua Può essere Così No Così Ok Forse Ce l'abbiamo fatta Allora Nidorina Attacco fossa Attacco fossa è l'attacco più forte che abbiamo Doppio calcio Doppio calcio Ci sciotta male Vai Charminion Scelgo te Bracere Ottimo Veleno spina Non ci fa neanche più di tanto Beh, ci ha velenato Però Lo sciottiamo Easy Prossima scelta Io Proverei a andare con Monkey Ok Perché comunque Questi sono Pokémon Normali Non sono Pokémon Veleno Quindi in teoria Li dobbiamo fare male Sì Dai Qualcosina Glielo facciamo Andiamo di sfuriata Ah Ah ok Due Tre Cioè Nulla l'ho fatto Proprio Cioè Ci fa più male lui Con una mossa Che io con Quattro Nidorino Infame Warthor Morso Olè Ok Anche lui È fatto Allora Curiamo i nostri Pokémon Superpozione Antidoto Revitalizzazione Ragazzi Ho fatto un po' di spesa Ho fatto Sì un po' di spesa Che ho allenato Un po' i Pokémon Fuori A telecamere spente Perché comunque Serviva Erano troppo bassi Cioè Già sto facendo fatica Adesso Che ce l'ho Al 26 25 Figuratevi prima Che l'avevo Che l'avevo Più basse ancora Quindi Facevo ancora Più fatica Così Dovrebbe essere No Di qua si esce Così No Così No Come cavolo è Così Allora Così Così No Di qua Ok E poi Bisogna salire Così No Neanche C'è qualche freccia Che C'è qualche freccia Sbagliata Ragazzi Questa Sicura è qua Quindi Partiamo da qua Questa La mettiamo là Però Questa Non ha senso Cioè Come faccio A arrivare là Quindi Penso che Sia di qua Così Così No Così si esce Così 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 Ok No La freccia Quella Per forza Libero Come si arriva Lì Da qua Ok Andiamo di qua Dai ragazzi Forse Fra me Forse No Forse Fra mezz'ora Abbiamo Capito Forse ho capito Allora Così Ok Così Così Poi Così 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 No Ma Prima ce l'avevo fatta Allora Così Ok Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Allora Kogas Ha 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 Un microblo come te Osa Siedarmi Bene Ti insegnerò Cos'è la paura Sono maestro ninja Proverai la mia La forza Terrorizzante Del pokemon Di tipo Veleno Questa dovrebbe essere La Quarta medaglia In teoria Koffing Diglett Fossa Livello 25 Quindi da livelli Siamo pari No Schifoso Schifoso Charmino Scelgo te Grimmer Bracere Dai Ok Fallisce Alto bracere Rafforzatore Bravo Dai 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 Bracere Ok Andato 27 Charmino Non impara No Non lo voglio Visotrucce Qua ci vado Con Monkey Contro Subito Venomot Ti butta Mamma mia Subito così Ignorante Proprio Porcaccia La miseria Allora Intanto Revitalizziamo Diglett Però non gli fa nulla Perché è volante Purtroppo Superpozione A Lui Perfetto Ok Sfuriate Mettendo Attacca Sempre lui Ok Proviamo Diglett Ma Non sa che Non ha senso Magnitudo Livello 7 Benino 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 Ragazzi Benino Quartor Surf Dai ragazzi Bene Confusione Ottimo Dai No Sei confuso Revitalizzazione Diglett Sanguisuga Ok Surf Vabbè C'è la velena Tutto lui Fa Dai però Ma che sfortuna Dai 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 che ce la fai Bravissimo Venomot Allora Superpozione Dai Dai che ce la Eh ti pareva Mannaya Mannaya Surf Ottimo Dai Dai che per me ce la fa Ce la può fare Warthor Ce la può fare Ce la può fare Se non muore C'è Arminion Bracciere Sì Ragazzi Grande Che gioco di squadra No C'è Golbat Come ultimo Vabbè Golbat In teoria Non è tanto Cioè Nel senso Comunque È molto più forte Venomot Di Golbat Golbat Non è che è tanto 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 Forte Dai 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 che ce la Fai Uh Grande C'è Arminion E si vince Ragazzi Anche questa Allora Potrei dare sub Prendi anche questo Ok Tossina Ottimo Diamo un occhiettino Alle medaglie Ah no La medaglia è numero 7 Eh infatti si Perché dobbiamo tornare indietro Dobbiamo tornare indietro Appunto Quindi È normale Ok Allora Andiamo a curare I nostri Pokémon Qua Ottimo Bene 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 Così Dico La Charminion Si può pure riposare Tranquillamente Perfetto Adesso ci andiamo È nell'altra città Ragazzi Perché qua non si può fare nulla Quindi Andiamo giù No ho sbagliato Strada Andiamo giù di Qua Ok E vediamo Tanto qua non si può fare niente Andiamo di qua E vediamo Ok Ah ci sono tutti questi allenatori qua Almeno Saliamo anche un po' di livello Allora Scusate ragazzi Ma mi è venuto da ridere Perché Cioè Sembra fatto apposto Ho messo Di iglet davanti Charmino Continua a salire Iglipuff Manitudo A Iglipuff Ignorantissimo Bottam Quanto toglie Botto Grandissimo Oggi Iglipuff Electrabass Facciamolo un altro Bel Manitudo Oppure Aia Che male Ehm Vabbè In teoria contro l'elettricità Possiamo usare Di tutto Colpo basso Ok Li fa male Infatti Colpo karate Ottimo Uuuu Alla faccia Quanto toglie Super pozione Fulmi sguardo Dagli Dagli Della Madonna Perfetto Così Ok Allora Prima cosa Dobbiamo Curare Lui Revitalizzare Di iglet Super pozione Di iglet E Antiparalisi Eh ma l'abbiamo La fune di fuga Poi Dobbiamo togliere Il Ok Il condivisore Perché sta salendo Troppo Andiamo avanti Sono un pescatore Ok Questo qua Ha i pokemon D'acqua Quindi Possiamo usare Un bel Pika 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 Ottimo Livello 28 Sono pure più alti Di noi Tono shock Li facciamo male Ovviamente Attacco rapido Non voglio consumare Il secondo E ok Come secondo pokemon A zoomeril Teorie dovrei farli male Lo stesso Bollaraggio Fa malissimo Altro tono shock Rotolamento Per ora Va bene Perché tanto Fino al secondo Tacco rapido No Che sfortuna Andiamo con monkey Sono belli alti Qua i pokemon Eh raga Sono belli alti Sono belli 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 alti Allora Revitalizziamo Cioè Sembrava una rega pokemon Che ogni due per tre Revitalizziamo Vediamo qua cosa troviamo di Buono Money might Io money might Lo prenderei Ma tanto per prenderlo Non per qualcosa Dai ci sarà un bel pokemon D'elba Igribuff Però non mi serve Vediamo un po' più avanti Electric Elettrico Ce l'abbiamo E qua Igribuff No Non mi serve Igribuff Niente Ragazzi Nulla 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 Io Andrei avanti Easy Ok Cerchiamo di arrivare Cerchiamo di arrivare Perché Sta arrivando un botto Chi è? Angelo Ma lui è rosso L'allenatore più forte Delle regioni di canto Mi chiedo Cosa stesse facendo qui? Ah Cioè Così a random Becchi rosso In giro Ma io ce l'ho Taglio Ragazzi Ma Perché non lo taglio? Beh Lo diamo a Diglett Tanto comunque Fangosberla Tanto Fangosberla Non fa neanche male Ok 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 Vediamo cosa si trova Qua di importante Iperpozione Di qua dove si va? Amo buona una cosa Eh Lo pensa anche tu Sì 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 Grandissimo E tu? Sento poco Conosce surf Perfetto Ma qua Si può andare Solo i mani Mentre esistono qua Qua No non si può Proviamo magari Vediamo qua cosa c'è Ah ok Nulla Torno indietro Quindi Niente Allora Qua nulla Si va Verso di qua Dove abbiamo visto Rosso Qua c'è l'allenatore Nascosto Ottimo Ottimo Quindi questo avrà Ok Pokémon così Quindi io vado con il mio Pika Pikachu Livello 25 Te pareva Vai con Tonoshock Dai Pika Fa il serio Pika Dai Da Pikachu Grande Pikachu Number one Pikachu Grandissimo Un altro Poi mi sa che qua Però abbiamo sbagliato Dobbiamo tornare indietro Allora Firov Eh Pika Per Firov è l'unico Che cavolo E Pikachu Allora Tonoshock Ragazzi Ignorante Li facciamo abbastanza In seguimento Ah lui non gli fa nulla In seguimento Attacco rapido Boh Il primo è andato Digles sarà al 26 Prossima Dotrio Andiamo avanti così Con il tonoshock A manetta Paralizzato Tonoshock Attacco rapido Non può attaccare Alto tonoshock E si shotta Easy Perfetto Così Digles evolve Ragazzi Che cosa bella Duc Benvenuto in squadra Fratello Bella 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 Sabbio tomba Boh E beh Sempre meglio di graffio Quale poco ma sicuro Allora Di qua si va giusto Si percorso 14 Io darei una ricaricatina Veloce A Duc E a Pikachu Ottimo Leverei anche Duc Dio la verità Però Ma Perché Ma Che si è diventato Un maschio Che era una femmina Ma Vabbè Boh Si è diventato maschio Ero femmina Ferugio 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 Fli Si è diventato maschio Ma che è successo Angelo Trova super pozione Ma Vabbè Eccans Duc Duc Un po' Che moraro Vuoi vederlo Va bene Service Ser Qua serve Ehm Vabbè Facciamo salire anche A Duc Prendiamo sto sambio tomba E fallisce Te pareva Cioè Vabbè Allora Andiamo di Charmilion Veleno coda Bracere Dovrei farle male In teoria Quanto è forte Bracere Veleno coda È fortissimo Andiamo con Mankey Ottimo Colpo basso Bene Bagliore Ci ha paralizzato Colpo karate Colpo karate L'abbiamo Fatto 26 Mankey Non so a che livello Si evolve Però 26 Allora Abbiamo quasi finito Le super pozioni Purtroppo Revitalizzazione Ehm Basta Due Antiparalisi Uno E Due E E E E E Super Pozioni Andiamo a fare un po' di spesa Boh Andiamo di qua Vediamo dove andiamo a finire Non lo so manco io E tu Il mio chop Vieni a lottare Ok Questa è i pokemon Di tipo roccia Quindi andiamo con il nostro Wartor Movimento sismico E la Marosca Surf E beh E Lala Addirittura Così tanto Ci toglie Allora Colpo Karate Ottimo It Molli Eh It Molli Si Vabbè Ma che Perché sono così Forti C'è al 28 Due livelli In meno di me Alla fine Sambiotomba Fa schifo Fa schifo Fa schifo Charmeleon Qua si mette male Allora Revitalizzazione Poi non so neanche se ho azzeccato la strade Se la strade è quella giusta o no Allora Super Pozioni Wartor Bravo Breccia E niente Andiamo giù di surf E vediamo se lo riusciamo a Te li facciamo male In teoria si Surf No Breccia Ottimo It Molli Mamma mia Grandissimo Wartor A livello 26 Allora Abbiamo finito le super pozioni Però Revitalizzazione Ancora ne abbiamo un po' Però stiamo facendo una Faticaccia Ragazzi E questa è una cosa Grave Che stiamo facendo fatica L'iperpozione La do a Wartor Stiamo facendo una Faticaccia Di che poi non so neanche se la strada è giusta Ehi Sembra abile Tengo compagnia Non so neanche se la strada è giusta E là E vabbè Pesante Mamma mia Mamma mia Che Pokémon pesanti Che sto beccando Ragazzi Allora Surf Ah Dai Con surf Qualcosina Glielo togliamo Almeno quello Ok Altro surf Monkey Monkey Pesante Colpo basso Grande Bella 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 Così Revitalizzazione Revitalizzazione E Revitalizzazione Qua non ci stanno cartelli Non so neanche Se la strada Percorso 12 So neanche se la strada è giusta O no Sì In teoria dovrebbe essere Giusta Vuoi lottare Sì Mi sa che stiamo andando Nella giusta direzione Allora Manitudo al 10 Eh Questa è pesantissima O come no L'ha Morto Ok Pika Morso Ottimo Sono fortissimi Ragazzi Sono fortissimi Qua i pokemon Mamma mia Che sono forti Bracere Ottimo Raffica Altro bracierino Easy Uh Che fortuna Ottimo Così La prossima È Bidrill Ottimo Furia Tra la volta Quindi non mi dovrebbe togliere Neanche tantissimo E c'è il million È quello che sale più di tutti Ma è giusta Qua la strada Boh Ma se io faccio così Ragazzi Taglio per l'acqua Che alla fine Non so neanche dove sono Della verità Uh Questo è bello Da prendere Tipo Psico E lascerei Lascerei manchi Prendere lui Quasi quasi Ragazzi Dive la verità Tipo pokemon Psico Non è male Eppure abbastanza forte Però a livello 25 Io Puro che ho l'attacco Allora Pokenball Vediamo se riusciamo Uno Due Tre Preso Preso Ottimo ragazzi Lui Lui è tanta roba Lui si Pokémon psico In squadra Pokémon psico In squadra Ragazzi Non è male Anche perché abbiamo Psico Abbiamo terra E Uh Ponita Che bello Anche perché abbiamo Monkey E Ductro Però ok Ductro possiamo usare Sia contro gli elettri Che contro i normali Perché comunque Anche attacco terra Un po' di tutti Uh Fulmine Mizzica Togliamo Schianto Si Togliamo schianto Io non so dove sono Però qual è il problema Non avendo la mappa Boh Non so neanche se La strada è giusta Beh Proviamo Andiamo di qua Andiamo di là Mary Livello 5 Quindi Mi sa che stiamo pure Stiamo andando Verso Boh Qua cosa c'è di Ah ok Un altro di questi Andiamo sopra Qua è chiuso Quindi qua Non si può andare Ottimo Quindi vediamo se Alla galleria lì Si possiamo entrare Chi sei Come chi sono Tu mi sei venuto addosso Senzriu Beh qua Guarda la manetta La manetta Vileno spina Surf Ottimo Il prossimo Senzriu Altra bella Boom 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 Grandissimo Senzriu E ultimo Senzlash Ci servirebbe Un negozio Un bel shop shop Ci servirebbe Qua Non dovrebbe esserci nulla Si ok Ma è finito Di Di apparire Allora qua È chiuso Per forza Dobbiamo entrare Vediamo dove siamo Non so dove siamo Qua Cos'è Ogni volta che il pokemon Appare So fino Ah qua dovrebbe apparire Nel qualcuno Ragazzi E niente ragazzi Ci salutiamo qui Perché comunque Non so più Andare avanti Prossimo giro Ragazzi Proveremo Andare Dall'altra parte È tornata La ragazza Prima eravamo diventati Ragazzi Adesso Siamo Ritornati Femmina Non so Cosa era successo Che eravamo diventati Maschi Poi femmine Boh E Vi aspetto Dai Dai Pikachu Però anche te Mamma mia Ragazzi Vi devo far allenare Ancora un po' Vi devo far allenare Ragazzi Bravo Bravo Che sei diventato fuoco Così Allora La debolezza mia Grandissimo Guarda Dal 27 Ottimo Percorso 14 Ma dove era Corso 14 Era qua Si No perché questo L'abbiamo battuto Ma Ma mi sa che ho sbagliato strada Dire la verità Non lo so Mi sa che ho sbagliato strada Probabile che ho sbagliato strada Ragazzi Probabile di si Vabbè Intanto Ragazzi Continua a crescere Meglio di così E niente Ragazzi Ci saluto Si mi sa che ho sbagliato strada Abbiamo sbagliato strada Ragazzi Purtroppo E questa è una cosa Che non va bene Non va bene Avere sbagliato strada Mannaya Abbiamo sbagliato strada Che sfortuna Vai Guarda C'è Warthor C'è Arminion Bracere Ottimo Ma come facciamo Però qua Meno male Che ci toglie poco Ci toglie tre Ecco Andato E ora si vide qua Vabbè Perché sono tutti paralizzati Allora Revitalizzazioni Warthor Ottimo Vabbè Tanto questo qua Ci sciotta Warthor Warthor Un surf Devi fare Grande Warthor Ottimo così Vabbè Niente ragazzi Non vado più avanti Ci salutiamo qui Ragazzi Ci vediamo Domani Con un'altra puntata Dove cercheremo di capire Dove siamo Detto questo